Salve a tutti gente e bentornati qui a un nuovo Let's Play, dunque, questo gioco si intitola American McGee, no, Alice, America, McGee, 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 si? Ok, che casino, va bene, sostanzialmente è il prequel di Alice Madness Return, che cosa succede in questo gioco praticamente? Allora, molti di voi conosceranno Alice Madness Return, perché praticamente è uno di quei giochi che hanno una fantastia incredibile al loro interno, sia per quanto riguarda il gameplay, che per la grafica, e anche un po' per la trama, devo essere sincera. Anche se, verso la fine, secondo me, quel gioco un po' ha perso, non del tutto, ma un po' ha perso. Comunque, era malato al punto giusto. Però, nonostante tutto, io l'ho trovato meno malato di quanto fosse stato questo, secondo me. Personalmente, io l'ho trovato un po' più malato, cioè io non l'ho mai giocato, però, dando un po' un'occhiata già al menu di entrata, a me mi sembra molto più, come dire, pazzo. Praticamente, in questo gioco Alice si trova nel manicomio e tramite, diciamo, un viaggio interiore nel mondo delle... nel mondo delle... in Wonderland, praticamente, ritrova se stessa in un qualche modo. Cerca di salvare se stessa dalla pazzia. Uno dice, è la stessa cosa che fa in Madness Return. Non del tutto, perché in Madness Return riesce a ritrovare quello che è veramente successo, mentre qui, invece, cerca di salvare se stessa dal senso di colpa e da tutto ciò che la appesantisce mentalmente. È proprio molto cupo, perché è come se una persona si guardasse allo specchio e si facesse un esame interiore, lottando contro ciò che le fa male. Cioè, contro se stessa, proprio. Ed è per questo che mi è piaciuto molto. Ho pensato di poterci fare un let's play. Quindi, come potete vedere, il menu è in inglese, però ho messo i sottotitoli in italiano, che sono amatoriali perché non è mai stato tradotto in italiano. Bene, ma, bando alle ciance e cominciamo. America... Alice... America McGee... Vai! Ma sì, vai! Facciamoci del mare, gente! Oddio, che occhi non c'è! Ehm... Quante tazze di tazze sei fatta, Alice, eh? Per sognare queste cose. Oh, no! Oh, no! Oh, no! We have to save, Alice! Ahia! Wake up, Alice! Wake up! E fu così che finimmo in manicomio. Con i polsi tagliati d'altronde. Perfetto! Oddio, che immagine inquietante. Questa sì che è veramente inquietante come faccia. Questi occhi giganti. Cosa stai facendo con quel lusacchiotto? Oddio! E giù, giù per il tubo, verso la pazzia più totale. Orsacchiotto. Che tempo fa. Ciao, ciao. Bene. Demetia. Demenzia. E siamo arrivati a Wonderland. Yeee! Con un urlo fantastico dice... Aia! Ah, che male nel sedere. Oh, Gesù. Cosa ti hanno fatto, bianconiglio? Oh, mio Dio! Ah, eccola, il gatto onoressico. Che gli lampeggiano pure i denti e gli occhi. È un faro, praticamente. No, ti odio. Punto. Andando avanti? Ok, gatto lampada. Stregatto lampada. Ed eccoci qua. Aha! Ok, figata. Figata. Ok. Come potete notare la... I comandi sono un po' particolari. Cosa siete? I sette nani? Certo che no. Già. Cos'è quello? Come ha il giuditore. Cavalca il vento. Oh. Questo è saltare, ok. Quindi direi di dove far così. Oh. Yeah. Steer up no trouble, stranger. The Red Queen's agents are ruthless. Tranquilla. I'm not afraid of her or her creatures. Never was, really. You should stand up to them. Esatto. Vai, Alice. Diventa... ...la regina. Only death can release this from this misery. For her death, I suppose. Esatto. Meta Essence is the life force of Wonderland. That of your enemies is especially potent. Collect what you can. Use it wisely. Stai parlando di quel triangolino assurdo? Dov'è il triangolino? Ah, è da quella parte, ok. Va bene. Uh. Ah, è la barra rossa. Mi servirà per le magie e robe varie. Qui? Cos'ho? Uh. Ho preso la lama volpare. Your knife is necessary, but not sufficient. Always collect what's useful. Reject only your ignorance. Ma comunque per dire... Oddio, che meraviglia. Ho un coltello. Finalmente potrò tagliare i carciofi. No, scherzo. Bianconiglio diventa più piccolo e si ficca in un buco. Oh, perfetto. Oh, adesso c'ho un puntino verde. Ok. Cosa sta succedendo? Stanno lavorando come schiami. Vedi un po' te. Alice. È passato cinque minuti fa. Non dovrei pensare così. Sono una persona. E ora voglio essere molto piccolo. Per questo grande. Ok. No, tu non hai capito un amazzo. Intendo proprio rimpicciolirmi. Not twisted, small. I wish to become about this big. The fortress adores hold such secrets. But it will take more than a wish to get inside. Direi di sì. Doors have locks. Locks need keys which you don't have. Let's hope the doors are open. And if not, there may be more than one way to skin a cat. Oddio Alice, che cattiva. Perché devi squagliare il gatto se non... Se non hai qualcosa? Oddio, oddio, oddio. Vieni qua. Merda. Oddio. Gli ho tagliato la testa. Che figata. Gli ho tagliato la testa. Ma davvero? Gli ho tagliato la testa. Ridami qua. Ok. Devo trovare un modo per andare da quella parte. Ma come? Direi che devo girare da questa parte qui. Ok, va bene. Come potete notare, è molto particolare. E inoltre, devo essere sincera. Veramente sincera. Adoro la voce del gatto. È una meraviglia. È sensualissima. Gatto? La pianti di parlare per enigmi? Ho bisogno di... Cos'è sta roba? Che mi serve? Va bene. Non saprei. Ciao, amico. Anche tu depresso? È una forte opinione di testerso. Ok, dobbiamo andare alle miniere. Prima di tutto andiamo un momento qua per vedere cosa c'è qui. Cos'è sto coso? Devo andare là comunque. Wow! Wow! You're... You're mean. Perfetto. Ok. Cosa sta succedendo? Pandemium. Perfetto, stiamo entrando nel Pandemium. Do sto? Attenzione, nemici ce ne sono? No. Non ho bisogno di questo. Ah, grazie. Tu sì che sei un genio. Ok. Come faccio ad aggrapparmi? Vado. Salto. Ah! Oddio! Oddio no no! Oddio no no no! No no. Ok. Ehm... Ok. Ehm... Mo' che faccio? Devo andare di là, direi. Ok. Non facciamo cagate. F. Oddio che sto facendo? Alice ce la fai a saltare là sopra? In alto, per favore. Vai. Ce la fai Alice? Ok. Oh, ho capito. Vai, sali. Ok, perfetto. Ah Alice, guarda come sono bella. Svolata. Oh mio Dio, un nano. Oddio, questa situazione è esturda. Esatto. E allora che cosa sono venuta a fare qui? Mangi un biscotto se è venuta luce. la prima volta qui, no? Oddio, vuole... Ti vuole... Scappa. Tipo fumando una pipa? Ah, eccolo lì. Ok, i nani... Oh, sì, sì. Ok, va bene. Allora, io direi... Salviamo. Cos'è sta roba? Salva. Ah, quello era un autosalvataggio. Ok, va bene. Ho salvato? Scusatemi. Sì, ho salvato. Sì, ho salvato. Perfetto. Dato che sono in modalità... In una modalità veramente pericolosa, è molto meglio stare attenti, no? Ok. Danger. Ah, mi dà più energia. Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. C'è qualcuno qui? Permesso? Ok. Va bene. Secondo quale criterio io mi sarei dovuta alzare? Oh mio Dio, che sta succedendo? Oh. 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 No, non sono Indiana Jones. Fermatevi immediatamente. Come abbiamo fatto? Sì, per passare se era stato distrutto tutto. Vabbè, fa niente. Ok. D'accordo. Altri nani schiavizzati. Dobbiamo farci dare quella roba dal nano pipa. Devo ammettere Camel? Che succede? Alice? Ti sei buttata sotto? Ah no, brava. Sai essere intelligente qualche volta. Oddio, no. Dio mio. Vai. Ok. Perfetto. Adesso direi... Ok, va bene gente. Finiamola qui. Ci rivediamo nella prossima parte. In cui... Ho salvato? Si è salvato? In cui andremo avanti. E in cui comincerò a sclerare come una pazza. Perché ovviamente in modalità hard sarà difficile. Non oso pensare poi cosa succederà con modalità... Modalità nightmare. Se mai la farò. Bene, lasciate... Se vi è piaciuta questa parte lasciate un mi piace, un commento. Ditevi se volete che continuo la serie. Guardate come si è messa Alice che sembra una passerella lì. Sembra una fottuta modella. E beh, ci rivediamo nella prossima parte. Yow!